È una bellissima giornata, è la vittoria del popolo contro i poteri forti, i banchieri, i finanzieri, i lobbisti, negli Stati Uniti come in Italia, tutti col potente di turno tranne i cittadini. Quindi per noi è un'ottima risposta perché Trump significa controllo dell'immigrazione, significa smetterla con le guerre fatte a caso in giro per il mondo, significa difendere il Made in USA e quindi anche il Made in Italy, smetterla con i trattati commerciali che avvantaggiano le multinazionali, tornare ad avere buoni rapporti con la Russia e con Putin, una flat tax al 15% per le imprese americane, quindi sostanzialmente il programma della Lega ha applicato la più grande democrazia del mondo, ora tocca a noi e quindi per quanto ci riguarda e per quanto riguarda la Lega e gli italiani, ogni sabato da Firenze comincia un percorso, chi lo vuole condividere ben accetto, chi preferisce tentennare o stare a casa farà altre scelte.